Nel momento in cui mi sono stata contattata è stata un'emozione grandissima, proprio un desiderio che avevo e non c'è niente di più bello di poter rivivere più volte sul palco lo stesso brano portando però emozioni diverse legate a tutto quello che è il nostro presente che cambia continuamente, perciò io non vedo l'ora di arrivare alla prossima tappa per regalarvi altri nuovi brani e nuove emozioni. Quindi grazie, grazie Piceno Cinema Festival e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.